All'interno del nostro telegiornale per la parte dell'approfondimento abbiamo invitato in studio il dottore Benedetto Trobbia che è il direttore di presidio dell'ospedale Sant'Elia. La sanità è stato ed è uno degli argomenti più caldi che trattiamo in queste settimane e non solo, già da tempo. Quindi intanto grazie dottore Trobbia per aver accettato il nostro invito. È la prima volta che viene in studio, l'ultima volta ci siamo visti in un'intervista diciamo abbastanza movimentata. Quindi adesso con più tranquillità ci racconta lo stato dell'arte. Cominciamo subito nel dire le sale operatorie dell'ospedale Sant'Elia sono attive al momento o no? Finalmente da oggi tutta l'attività chirurgica può essere espletata al Sant'Elia. Così come ho detto già nei giorni precedenti, anche in Commissione Sanità nella giornata di ieri, abbiamo visto l'evento imprevisto che c'è stato in data 9 maggio intorno alle 14.30 che ha portato ad un allagamento delle sale operatorie. È considerato che è necessario garantire la sicurezza nel percorso diagnostico e terapeutico di tutti i pazienti. Abbiamo ritenuto opportuno interrompere gli interventi programmati e in urgenza garantendo soltanto le emergenze. Dove le garantitevamo? Le abbiamo garantite presso le sale operatorie del blocco parto al secondo piano. Una settimana per riaprire il blocco operatorio non le sembra un po' troppo? È un caso di buona sanità, ho detto ieri in Commissione Sanità e alla Presidente e a tutti i consiglieri intervenuti, perché il nostro obiettivo è quello di garantire la sicurezza del paziente. Lei avrebbe mai fatto operare sua madre o suo padre in una sala operatoria nella quale non erano garantiti gli standard di sicurezza? E su questo non c'è dubbio. Tuttavia il tempo si poteva fare in un tempo inferiore. Ci sono dei piani di emergenza che si possono mettere in atto, che voi però non avete messo in atto? Assolutamente sì. Abbiamo lavorato, gli uffici hanno lavorato giorno e notte, il coordinatore delle sale operatorie è costantemente presente, il dottore Di Lorenzo, la direzione strategica interessata, l'ufficio tecnico, le ditte che hanno effettuato le manutenzioni. Abbiamo risolto definitivamente questa problematica, perché ci si è resi conto, gli uffici si sono resi conto, l'ufficio tecnico che c'era praticamente, le acque bianche andavano a confluire con le acque nere. Questo non avverrà più, è stato già spostato il tubo delle acque bianche fatto scaricare in un pozzetto più a valle, per cui un eventuale secondo evento precipitoso di una portata del genere rispetto a quella appunto che c'è stata il noveve di questo mese, non determinerà più questo disservizio. Lei mi insegna però che c'è una parolina magica che voi che siete gestori del management utilizzate sempre, che è la programmazione, nel senso che ci doveva essere il caso estremo, imprevisto, come dicono quelli che abitano a Bergamo, quando a Sant'Agata hanno rubato, poi hanno messo le grade di ferro. Era necessario questo oppure sarebbe stato anche necessario un controllo pedisseco di tutti i tombini dell'ospedale Sant'Elia per evitare che questo accadesse? Sono degli eventi imprevisti, non è mai successo, non è la prima pioggia torrenziale, non è mai successo, per cui dipende da quanto volume di acqua cade in quei pochi attimi, perché alla fine non è stata una pioggia che è durata chissà quando, è stata una pioggia di pochi minuti che ha determinato però questo aumento di pressione nella condotta fiognaria, così da far risalire le acque reflue sostanzialmente. Dottore Trubbia, non è successo niente per fortuna, come abbiamo detto precedentemente il morto non c'è stato e meno male, se no qui staremmo a parlare di altro e comunque l'emergenza si affronta anche nella previsione dell'emergenza. Assolutamente d'accordo, però ci sono degli eventi imprevedibili. Noi avevamo pazienti in sala operatoria quando si è verificato l'allagamento, naturalmente ponendo in essere tutte le procedure, abbiamo portato i pazienti fuori dal blocco operatorio, abbiamo allestito in brevissimo tempo la sala operatoria al secondo piano, e abbiamo garantito tutte le emergenze all'interno della stessa, fra cui due emergenze di pazienti affetti da Covid, perché l'altro ieri notte è arrivato un aneurisma rotto che è stato centralizzato su Caltanissetta da Canicattì, abbiamo avuto interventi di neurochirurgia, quindi di chirurgia vascolare, di chirurgia generale, di urologia, abbiamo avuto la mattina un caso di una paziente che doveva essere operata dagli urologi, non c'è stata, era un'urgenza, non era un'emergenza, al pronto soccorso non hanno trovato posto in tutte le urologie della Sicilia, ci siamo organizzati e abbiamo garantito anche l'intervento a questa paziente. Naturalmente è soltanto un problema di organizzazione, abbiamo gestito tutti i pazienti uno ad uno nel miglior modo possibile, motivo per cui il morto non c'è stato. Due domande, la prima, ha fatto un'indagine interna su quella famosa mail che è partita, che poi non è stata, diciamo, un controordine che poi non è arrivato? La mail è partita nel momento in cui è arrivata la notizia che le sale operatorie erano allagate. Questa mail è stata valevole per pochi minuti, tempo di allestire sopra le sale operatorie. Ma non è stata disdetta? È stata disdetta verbalmente, perché col dottore Misuraca, io, lui, può fornirne prova, o posso fornirne prova io, perché ci sentiamo diverse volte al giorno. L'ultima volta stamattina per un paziente covid positivo che doveva essere affetto da infarto, per cui dico, ci sentiamo giornalmente, più volte al giorno, in ogni caso, quando c'è un'emergenza o una urgenza non differibile. L'altra domanda, non c'è una discrasia troppo forte tra quello che dice la cittadinanza dei servizi dell'ospedale Sant'Elia e come voi raccontate i servizi? Il problema è, secondo me, bisogna viverlo il Sant'Elia, bisogna sentirlo proprio, bisogna innamorarsi del proprio ospedale. Io, il fatto che piova diventi un caso di Stato, dico, non lo vedo, non ho questa visione del problema, perché a tutti può capitare, è successo in altri ospedali, si è allagato pure il tribunale. Dico, non ho visto... La sanità e la salute sono degli argomenti assolutamente differenti e molto più delicati, però c'è il problema del pronto soccorso che continua a essere sempre una sorta di Cambogia, così come l'abbiamo definita più volte. E lei invece il pronto soccorso ce lo racconta come un mondo organizzato. Allora, qual è la differenza? Ieri abbiamo avuto un'ispezione dei NAS sul pronto soccorso. Ci hanno detto che è uno dei migliori pronto soccorso che hanno visionato in Sicilia, nell'area di loro competenza. Sono arrivati in un momento buono. Sono arrivati i NAS, ieri mattina, non ci avvisano per prima, per cui dico, peraltro io sono aperto a chiunque, l'ho detto già durante un'intervista su Radio CL1, se c'è qualcuno che vuole visitare, naturalmente, parlo di istituzioni, non di cittadini, o vogliamo organizzare qualcosa per vedere, perché bisogna vederle le cose, non bisogna parlarne per sentito dire. Per carità, i problemi li abbiamo, nessuno dice che non abbiamo problemi, ma ci mettiamo anima e corpo. Pochi medici, pochi infermieri, molti infermieri vengono trasferiti in altri presidi ospedalieri e di questo abbiamo scritto tanto. Noi mettiamo anima e corpo in tutto quello che facciamo, non io, ma tutti i direttori di tutte le unità operative, tutti i medici, tutti gli infermieri. Vero è che c'è la carenza di personale, vero è che abbiamo problemi, vero è che ci sono, perché saremmo ipocriti a non dirlo, delle problematiche da affrontare e da risolvere giornalmente, perché le affrontiamo e ci confrontiamo giornalmente, solo così riusciamo ad arrivare ad una risoluzione di molte problematiche. La pneumologia è chiusa, dottore? La pneumologia è chiusa, stiamo lavorando per riaprire e scorporare quanti più reparti. Stamane ho sentito il direttore generale, in merito al trasferimento di qualche unità operativa proprio propedeutica allo scorporo di altre. Per cui è un nostro obiettivo aumentare i posti letto, garantire salute per i nostri cittadini, per i nostri concittadini. Perché i medici non vogliono venire a Caltanissetta? Diciamocelo chiaramente. Il problema è nazionale, non è un problema provinciale, motivo per cui l'anno scorso le borse di scuola di specializzazione sono state quasi triplicate. Speriamo da qui a qualche anno di risolvere questa problematica. È un problema che conosciamo, è un problema che c'è da diversi anni, è un problema che non abbiamo soltanto noi, ma che hanno tutte le province d'Italia, la maggior parte perlomeno delle province d'Italia. Sono stati due anni duri, difficili per tutti, soprattutto e anche per lei, perché si è trovato a dover gestire, in una conferenza ha raccontato quella famosa telefonata quel giorno, in cui le hanno dato la responsabilità di gestire l'emergenza Covid. Facendo brevemente un bilancio di questi due anni, la cosa più difficile che ha affrontato è invece la soddisfazione che ha avuto. Guarda, io personalmente sono soddisfatto del mio lavoro. Naturalmente avrò commesso mille errori, non sta a me dire quali sono. Sono pronto ad affrontarlo in qualsiasi sede, in qualsiasi riunione. Credo che abbiamo fatto, perché non sono stato io soltanto, è stata tutta la squadra, è stata la direzione strategica. Se pensiamo al pronto soccorso infettivologico, ieri sono venuti in asse, come le dicevo, ci hanno fatti i complimenti per questi percorsi completamente separati, perché alla fine il pronto soccorso infettivologico è stata un'invenzione nostra, dell'aspe di Caltanissetta. Siamo stati i primi ad aprire un PS infettivologico e non semplicemente un pre-triage, quindi con un'attac dedicata, con tutta la strumentazione dedicata a supporto del paziente, al fine di fare diagnosi e quindi ricoverare il paziente all'interno della stessa palazzina B. La soddisfazione più grande? La soddisfazione più grande? Probabilmente molti pazienti che sento o sentivo telefonicamente affetti da Covid, ai quali appunto che ho pure incontrato, sono stato a casa e durante la loro positività e a posteriori che hanno avuto appunto un buon esito dalle cure prescritte, somministrate e quindi che sono guariti dal Covid stesso. Quando ci sono tutte queste critiche, che sono continue e costanti soprattutto in quest'ultimo periodo, lei cosa pensa, cosa sente? Io penso che bisogna andare avanti, bisogna lavorare, io sono uno che l'ospedale lo sento mio, per cui l'ho sempre frequentato, mettiamola così, per cui l'ospedale è una parte importante della mia vita, lo sento mio, mi faccio il mio lavoro, vado avanti. Non si sente addosso tutta la responsabilità di una gestione che viene continuamente criticata? A volte anch'io mi faccio delle domande, però noi siamo i professionisti, noi siamo i tecnici, abbiamo delle competenze e nonostante quello che... Cioè si fa delle domande perché si chiede perché lo fanno? Assolutamente, mi chiedo il motivo per cui veniamo attaccati a onor del vero, piuttosto che per cose che a volte non sono così come vengono esposte. Però il nostro lavoro è quello di andare avanti, perseverare, abbiamo diversi feedback positivi rispetto al lavoro che portiamo avanti. Pensiamo ai tamponi, pensiamo ai vaccini, abbiamo avuto mille critiche, abbiamo avuto mille difficoltà perché dover fare 1900 vaccini in un giorno non è una cosa semplice. Naturalmente in una struttura la cui capacità di somministrazione era di 800, noi non abbiamo mai mandato indietro nessuno perché bisogna capire pure il lato della medaglia dal quale questo si vede. Noi potevamo dire abbiamo 800 slot, possiamo somministrare 800 vaccini. In open non riceviamo nessuno, motivo per cui i prenotati entrano, i non prenotati vanno a casa. Non fa parte appunto del nostro modus operandi. Noi cerchiamo in periodo pandemico di vaccinare quanta più popolazione possibile, quanti più nostri concittadini possibili, quindi con mille sacrifici perché i colleghi, i ragazzi, gli infermieri, gli ossi a volte uscivano a mezzanotte dovendo smontare alle 8 di sera. A volte la mattina noi aprivamo alle 9 e già alle 8 eravamo al lavoro. Io e tanti altri in mezzo alla strada a cercare di governare queste file di automobili impazzite perché poi in un periodo pandemico all'inizio c'è stata la corsa al vaccino. Oggi assistiamo ad un decremento graduale nelle somministrazioni delle vaccinazioni, per cui oggi non c'è fila, non c'è la necessità di una prenotazione, però noi non abbiamo mai mandato nessuno a casa. E questo secondo me è la parte di buona sanità da vedere e da cogliere. Una promessa, incentivare i servizi dell'ospedale e migliorare le file al pronto soccorso. Questa è una cosa che le chiediamo sempre, però ancora non abbiamo visto. Perché non la fa? Stiamo lavorando in tal senso, non sono io in prima persona, ma siamo tutti che dobbiamo appunto andare verso questa direzione. Stiamo lavorando, cerchiamo di efficientare quanto più possibile i servizi, naturalmente con le difficoltà di cui parlavamo poc'anzi. Allora, ci facciamo una promessa, un'intervista soltanto sui vaccini, sul Covid, quello che è stato, quello che è e quello che sarà. Così almeno facciamo una cosa completa soltanto su questo argomento. Mi ritorna in studio, lo prometto? Assolutamente, promesso. Va bene. E allora grazie, buona continuazione di lavoro e grazie per aver accettato questa intervista. Grazie. Che dopo l'ultima non era sicuro che lei venisse. No, io lo sono sempre disponibile, per cui grazie a voi, grazie a tutti. Grazie a lei, grazie a lei.